L'ostanza da Libiano, come nasce il film? Il film nasce perché un mio amico, carissimo, mi porta a leggere questo libro pubblicato da Franco Cardini, intitolato La strega Costanza. Apro questo libro, leggo questo libro, ed è la storia di un gruppo di quattro giovani archiviste che mettendo in ordine l'archivio del comune di San Mignato, paese a confine tra la provincia di Pisa e la provincia di Firenze, tra l'altro paese natale dei famosi fratelli italiani, ritrovano nell'archivio storico del comune di San Mignato, questi fogli manoscritti. Una di queste era stata un'allieva di Cardini, legge questo testo scritto in scrittura cinquecentesca e si rende conto che è il verbale di un processo a una strega avvenuto a San Mignato nel 1500. Quindi prende questo manoscritto e lo porta a Cardini. Cardini quando lo legge pazzisce, hai trovato una roba incredibile, perché è un testo in italiano, tra l'altro in italiano straordinario, che ricorda Dante, Petrarca, scritto in italiano straordinario, questo notaio che teneva i verbali è veramente un personaggio interessante. Anche io leggo questo testo e mi innamoro, mi innamoro perché ci vedo un film anche lì straordinario. Il mio amico che mi aveva portato il libro, tra l'altro era un insegnante che insegnava in una scuola media di San Mignato, era amico del sindaco di San Mignato, per cui mi ha portato a San Mignato e mi ha presentato il sindaco. E io sono andato a dirgli, guarda, ho letto questo libro, questa cosa, perché naturalmente a San Mignato tutti sapevano di questo ritrovamento, era un po' un fatto, come dire, che aveva colpito un po' tutti quanti di questo episodio successo a San Mignato nel 1500. E scrivato dal sindaco, il sindaco gli dico, guarda, io ho letto questa cosa, sarei felice di poter fare un film? Ah, dice, ma ci hanno detto che non si può tirare fuori nessun film da questo testo. Scusi, ma chi gliel'ha detto? Come chi gliel'ha detto? I fratelli italiani. Scusi, abbiamo mandato a loro subito questo libro in modo che loro potessero crearci un film, visto che riguardava la storia del loro paese. Ma loro hanno detto che da quella storia non poteva uscire nessun film. Dico, guardi, io non sono i fratelli italiani, io sono Paolo Benvenuti e secondo me invece può venire fuori un bel film. Se il comune di San Mignato mi mette nelle condizioni di fare questo film, io… Quali sono le condizioni? Ma io vorrei girare nei posti che hanno ancora oggi caratteri antichi. Per cui, per esempio, già la sala provinciale, la sala della giunta comunale per me mi andrebbe benissimo per poterci girare delle scene. Poi c'è la cappella dell'Orettino che è lì, oppure la… Li faccio una serie di… ho fatto dei sopralluoghi, ho visto i posti che mi interessavano e ho fatto un elenco, il permesso per poter girare in questi ambienti. E poi, questa è la cosa più difficile, bisognerebbe che lei mi bloccasse il traffico. in tutto il centro storico. Come? Eh sì. Io giro in presa diretta, il suono in presa diretta, per cui se mi passano le macchine sotto le finestre mentre giro mi rovinano la scena. Per cui, per il mese che… cioè nelle ore in cui io giro, le macchine devono essere tenute lontane dal centro storico. Questo era il passaggio più difficile. Vabbè, se riesce a farlo bene, se no… pazienza. Però ci tenevano talmente tanto a fare questo film che alla fine mi hanno chiuso il traffico. Sono stato odiato da tutti gli abitanti nel centro storico di San Vignato. Per un mese praticamente, non c'erano… ma automobili nel centro storico. Niente, per cui ho organizzato la produzione. Ho organizzato la produzione e ho scelto… ho cominciato a scegliere gli attori. Gli attori erano appunto… l'attore fondamentale era la strega. A chi faccio fare la strega? Allora, la strega si sapeva dal documento che era una donna di circa 60 anni, ancora bella, ancora una bella donna, contadina toscana, doveva parlare toscano, doveva trovare un'attrice che avesse 60 anni, che fosse ancora bella, che fosse toscana e che soprattutto avesse una scioltezza di linguaggio, una capacità fabulatoria assolutamente straordinaria. L'unica donna che avesse queste caratteristiche si chiamava Lucia Poli. Per cui io sono… La sorella del famoso… La sorella del famoso Paolo Poli, attore Paolo Poli. Quindi vado a Roma a conoscere Lucia Poli. Vado a conoscere Lucia Poli e lei mi offre un caffè a casa sua. C'era lei col suo figlio e incontro una donna piacevole, tranquilla, niente di divistico nel personaggio, perfetta. Io mi sono subito innamorato di questa donna. Quando si è resa conto che io ero felice e che finalmente c'era nei miei occhi un'ammirazione per quello che lei mi stava dando, lei si è sciolta. E da quel momento lei ha cercato di venirmi incontro, di darmi quello che io cercavo. Tant'è vero che poco dopo abbiamo girato, qualche giorno dopo abbiamo girato una scena di tortura dove lei alla fine della tortura viene per terra sdraiata, dolorante, eccetera. Lì gli ho fatto un primo piano di 7 minuti e 20 secondi e sfido qualunque attrice che piglia i Davide e Donatello a fare una roba del genere. Lei non ha mai avuto nessun premio da parte della cinematografia italiana. A fare un primo piano come quello che ha fatto lei in questo film. Un primo piano dove lei da persona dolorante per le torture subite piano 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 diventa donna, ritorna donna, donna sensuale, strega e chiude il primo piano dopo 7 minuti è la strega, la strega che ha fatto le malie. Cioè è una cosa, una trasformazione di grandissima tecnica, capacità attoriale. E lì ho capito che da quel momento il film avrebbe funzionato. Ecco, poi terminate le riprese, un film non termina, inizia… No, io tra l'altro voglio raccontare un altro particolare inedito di quel film. Io stavo malissimo, avevo le emoroidi, ma delle emoroidi di dimensioni paurose. Pensa che invece di stare seduto sulla seggia del regista, io stavo seduto su due mattoni, uno a destra e una a sinistra sulle latiche, perché le emoroidi mi impedivano di potermi sedere. Io ho girato il film in queste condizioni. Tant'è vero che il professore di storia del cinema dell'Università di Firenze, Sandro Bernardi, aveva mandato una sua studentessa a seguire tutte le riprese, perché voleva fare la tesi sul film, sulla realizzazione di questo film. E lei ha fatto il diario delle riprese e racconta questa storia delle emoroidi del regista che, che poveraccio, non si poteva nemmeno sedere perché… Ecco, immaginate che… E io sono convinto che quell'emoroidi sono state la maledizione di Costanza che mi ha mandato. Cioè, devi soffrì come ho sofferto io. Tanto è vero che quando mandavamo a Roma il materiale girato, il montatore da Roma ci telefonava e ci diceva, ragazzi, io non riesco a montare il film. Dico, perché? Cioè, perché? Il titolo, come si dice, il titolo provvisorio era La strega Costanza. Arrivavano le pizze con scritto sopra la strega Costanza. Arrivava e questo montatore lavorava, il moviole dice, non riesco a montare. Mi saltano le macchine, il computer perché si montava con il computer. Mi salta il computer, cioè io cambio computer e il film non riesco… Cioè, qualunque materiale… Non riesco a gestire. Non riesco a gestire. E io gli dico, sai cosa devi fare? Togli l'etichetta dalla strega Costanza, cancella la parola strega, vedrai che funziona. Ha cancellato la parola strega e ha potuto montare il film. Tanto per dirvi… Aspetta, non solo, ma quando abbiamo aperto la prima volta la cella dove Costanza… Sul muro delle celle c'erano dei disegni. C'erano famosi segni dei giorni passati in cella. E c'era addirittura un disegno di una donna che era il ritratto di Costanza da Libiano. Ed era il vestito che era in quel disegno. Tra l'altro ci sono le fotografie nella tesi di questa ragazza. L'incredibile è che abbiamo scoperto che i costumi che avrebbe dovuto indossare Costanza nel film erano rappresentati in questo disegno fatto… Questo graffito fatto nella cella dove abbiamo girato il film. Ma è un caso oppure… È un caso, ovviamente. È un caso perché… Non ce l'ho mica fatto io il disegno. C'è la lei da chissà… Quanti secoli quei disegni… Ecco, in questa domanda su questo… Si è fatta una volta azioni in che epoca… Sì, 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 c'era roba… C'erano le date anche… C'era… Sì, era più o meno del 500, 600… Era quel periodo… Poi si vedeva dallo stile del disegno che era… Se c'è infatti con il rosso del mattone, sai quelle cose… Mezzo graffito… E ci sono ancora… Comunque ci sono le fotografie… Perché mio padre che era il fotografo di scena… Ha fotografato tutto… Ci sono le fotografie della strega… Delle scritte sulla cella… C'è tutto… Ecco… Poi… Sulla porta della cella c'era una data… Mi pare… 1560… Poi dedicheremo una puntata ai documenti… Sì… Ecco… Una volta terminate le riprese del film… Poi che ne è stato di… Questo… Dunque… Poi è successo che io l'ho presentato al Festival di Venezia… Ho mandato la copia al Festival di Venezia… Dopodiché… Mi ha telefonato… L'allora direttore… Che è l'attore… Che è ancora lui… Il direttore del Festival di Venezia… Mi diceva… Paolo… Mi devi fare un regalo… Cioè… Mi devi ritirare il film… Perché? Dico… Perché se prendo il tuo film… Devo… Buttare fuori quegli altri… Perché il tuo film è talmente anomalo… Rispetto ai film che sono in concorso… Che… Che non lo posso… Cioè che mi sballa tutta la… La programmazione… La programmazione… Quindi dico… Vabbè… Te lo ritiro… L'ho ritirato… E l'ho mandato a Locarno… Dove ha vinto il premio speciale della giuria… Viene premiato a Locarno… Dopodiché… Ah… Non abbiamo detto una cosa fondamentale di questo film… Che è l'unico mio film in bianco e nero… E non è poco… Ed è interessante sapere perché è bianco e nero… Ecco… Perché io… Perché io… Quando ho scritto la sceneggiatura l'ho scritta… Pensando a un film a colori… Tra l'altro avevo scelto anche i costumi personalmente dei personaggi… Ed erano funzionali ai colori che mi interessavano… Il mio direttore della viaggio ha già ordinato la pellicola… A colori… Per girare il film… Il problema è che l'ultimo sopralluogo che io ho fatto a… A Samminiato… Prima dell'inizio delle reprise… L'ho fatto in un giorno in cui… Era tramonto… E veniva dal mare una luce rosata… Bellissima… Che colpiva questo paesino medievale… Ed entrava nelle finestre… C'erano questi affreschi dentro… Questi edifici antichi… Colpiti dalla luce… Che… La luce era un'esplosione di colori… Ho detto… Film a colori… Ho fatto in questo modo… Viene fuori… Una… Una serie di… Dipinti… Di una… Potenza… Visiva… Eccezionale… E mi rompeva le scatole… Questa cosa… Perché… Perché il vero… Soggetto… Di questo film… Era… La capacità… Fabulatoria… La parola… Era la parola… Non l'immagine… La capacità… Fabulatoria… Della strega… E io… Pretendevo… Che gli spettatori… Attraverso… La parola… Della strega… Immaginassero… Quello… Che la strega… Stava raccontando… Le sue voli… Verso… La città del diavolo… L'incontro… Gli amplessi… D'amore col diavolo… Cioè… Io volevo… Questo… Era il film… Per cui… Ho avuto paura… Che la bellezza… Delle immagini… Distraesse… Dalla potenza evocativa… Della strega… A colore… Ho girato un bel che nero… Sarebbe stato un film diverso… Assolutamente… Forse un film… Meno interessante… Meno interessante… Perché avrebbe… Il colore… Avrebbe… Schiacciato… La delicatezza… Del testo… Sì… Ci sarebbe stato un messaggio di troppo… Sì… Esatto… Ecco… Però… Tutti i tuoi film… Si arrestano… Alla presentazione… Al festival… Al premio… Ai complimenti… Agli omaggi… Ma… Il pubblico… Il pubblico… Purtroppo… E' tagliato fuori dai miei film… Per un motivo… Politico… Possiamo dirlo… Un motivo politico… Nel senso che… Gli italiani non sanno… Che l'Italia era uno dei paesi… Forse più della Francia… Che aveva una… Una forte attenzione al linguaggio cinematografico… C'erano decine di cine club… E decine di cine forum… Su tutto il territorio nazionale… C'erano i cinema d'essai… Cioè c'era un circuito… Fatto per le opere cinematografiche… Di un certo prestigio… Questo circuito è stato smantellato… Pezzo per pezzo… E non esiste più… Cioè non esiste più… Una circuitazione di film culturali… Il cinema culturale… E' un cinema perdente… Quindi… Non commerciale… Quindi inesistente… E' talmente inesistente… Che nel momento in cui… Non esistono più… Le catene di distribuzione… Di questo cinema… Il cinema non esiste più… Uno… Due… E' stata cambiata la legge sul cinema… La legge 12-13… Che finanziava i film culturali… Come era nata? Era nata… Ed era stata firmata da Giulio Andreotti… Era nata… Perché… Perché… I governi democristiani… Degli anni 50… Avevano capito… E anche… Per la forza… Espressiva… Del cinema… Che si faceva in Italia… Nel anni 50… Considerato… Il cinema più bello del mondo… Che ha influenzato… Decine di cinematografie estere… Compressa… Il cinema americano… Questo cinema… Non incassava… Il cinema culturale… Roma città aperta… De Rossodini… In Italia… Non incassavano… Era un fiasco… In America… Faceva le fila… Per andare a vedere… Quindi… Che cosa ha fatto… Il governo… Cosa hanno fatto i governi… Di allora… Hanno detto… Quel cinema lì… Culturale… È un cinema… Che… Non incassa… Ma… Per noi… È un forte ritorno d'immagine… Perché all'estero… È considerato… All'altissimo livello… Per cui… Ce lo chiedono gli americani… Ce lo chiedono i francesi… Ce lo chiedono gli inglesi… Ce lo chiedono i tedeschi… Perché… Il nostro cinema… Funziona… Culturalmente… Quindi… Va aiutato… Economicamente… E hanno fatto… La legge 12-13… Per la quale… Chiunque… Qualunque… Cittadino italiano… Mandasse… A Roma… Al Ministero… La propria… Sceneggiatura… C'era una commissione… Di esperti… Veri… Non… Legati… Ai partiti… Ma… Veramente… Scelti… Tra le persone… Culturalmente… Più preparate… In caso… Di saper leggere… Le sceneggiature… Le quale… Leggevano… Queste sceneggiature… E quando… Vedevano… Che una sceneggiatura… Era interessante… Culturalmente… La finanziavano… La finanziavano… Totalmente… Non una parte… Totalmente… Quindi… Ti scrivevano… Dal Ministero… Ti dicevano… Guarda… Abbiamo letto… Abbiamo approvato… La sceneggiatura… Quanto costa… Te dovevi mandare un preventivo… E loro ti davano… Cash… Ta 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 ta… Ti davano soldi… In questo modo… Ho girato il Basso di Giuda… Dove purtroppo… Lì… La mia incapacità di produttore… Mi aveva fatto… Sballare i conti… Non mi ero reso conto… Che il film costava un po' di più… Tant'è vero… Poi… Ho dovuto… Integrare… Con una vendita della casa… Come ho raccontato… E poi… Ho recuperato… Ecc… Ma… Per Confortoria… Non c'è stato problemi… A quel punto… Avevo una casa… Un amico produttore… Che mi ha fatto… Lo scorporo… Della sceneggiatura… Ma ho detto… Guarda… Questo film costa… Questa cifra… Se poi vogliamo guadagnare qualcosa… Ci mettiamo anche… Un po' di più… Per cui… Ho mandato… Un preventivo… Di 400 milioni… Mentre… Per… Il Bacio di Giuda… Ho chiesto… 260 milioni… Per Confortoria… Ho fatto… 400 milioni… Infatti… Il film è uscito… Perfetto… E' costata così… Cosa è successo? Che qualche tempo dopo… È arrivato un signore… Che si chiamava Berlusconi… Al governo… E' un attimo… Anche Costanza Dalibiano… E' stata finanziata… Anche il casco… E' stata finanziata… Con due miliardi di euro… No… Di euro… Di lire… Scusa… Due miliardi di lire… Due miliardi di lire… Ma un miliardo e mezzo di lire… Era costato anche il film precedente… Di Tiburzi… Cioè… Piano piano… Questa commissione… Leggeva le mie scelte… Le approvava… Automaticamente… Di Tiburzi… Parleremo dopo… Costanza Dalibiano… Ha ricevuto… Due miliardi di lire… E gli stessi due miliardi… Sono stati ottenuti… Poi nel film… Segreti di Stato… Perché ormai era il mio target… Perché io… Più o meno… Giravo fra le quattro… E le cinque settimane… Di lavorazione… Ero velocissimo… Nella risale del film… Per cui… Con due miliardi… Io chiudevo… La produzione… Quindi… Cos'è successo? E' arrivato Berlusconi… E' arrivato Berlusconi… Ha cambiato la legge… Ha detto… Sì… La legge rimane uguale… Purché… Ci ha messo… Un codicillo… Purché… Garantisca un incasso al botteghino… Cioè… Si finanziano… Tutti i film… Culturali… Ecc… Purché… Garantisca un incasso al botteghino… Beh… Ma allora non è più… Aveva… Aveva rovesciato… Con questa aggiunta… Aveva rovesciato il senso… Della… Della legge… Andreotti… Infatti io dicevo… Ha ridatoci Andreotti… Mi rivolgo a Andreotti… Ma… In qualche maniera… Capovolgeva totalmente il principio… Esatto… E questo è successo… Se un film ha l'incasso al botteghino… Non ha bisogno neanche del finanziamento… Appunto… E infatti… Infatti… A oggi… Bisogna restituire… I soldi… Alla… Alla… Cioè… Dobbiamo garantire… Che quello che il ministero ti dà… Il ministero deve riavere successivamente… Cioè… In questo caso… Il ministero fa da banca provvisoria… Esatto… 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 Ti dai soldi… Che poi nemmeno il ministero… Ma la BNL… La Banca Nazionale del Lavoro… Che per il ministero ti dai soldi… Però poi… Li rivuole… Ecco… Però… Ora… Abbiamo spiegato… No… Ti ho spiegato perché… Allora… Il cambiamento della legge… E lo smantellamento del circuito alternativo… Diciamo così… Che presentava i film culturali… Che è stato completamente cancellato… E' chiaro che i film culturali… Che io faccio… Non hanno più una possibilità di distribuzione… Ecco… Un attimo… Fermiamoci su questo aspetto… Il circuito del cinema del sé… Io sapevo che era gestito… Da un lato… Dall'Arci… E dall'altro… Come contro… Appunto… Dall'azione cattolica… Diciamo… Dalle chiese… No… Stai sbagliando… Non sono il cinema del sé… Ma i circoli del cinema… Cioè… I cineforum… Sono gestiti dalla parte cattolica… E i cineclub… Sono gestiti dall'Arci… Per cui non c'entra nulla… I cinema del sé… Sono cinema commerciali… Con… Con… La prerogativa… Siccome esisteva comunque un pubblico interessato a un cinema culturale… Erano nati dei film… Delle sale… Pure commerciali… Ma de sé… Cioè… Dove… Praticamente… Il gestore chiedeva a un esperto di cinema… Di fargli la programmazione de sé… E l'esperto di cinema… Magari non tutta la settimana… Magari… Che ne so… Il sabato e la domenica… Facevano i film… Panettone… Panettone… Da incasso… E il venerdì… Giovedì e venerdì… Facevano il cinema de sé… Ecco… Per cui la sala era la sala de sé… Che otteneva dei contributi anch'essa dal ministero… Proprio perché era de sé… Ma è un'altra cosa… Per cui c'erano… Circoli del cinema… Cioè… Cineforum e cineclub… Gestiti da sinistra… Gestiti da… 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 Poi c'era il cinema de sé… Poi c'era il cinema de sé… Comunque questa triangolazione… Consentiva la visibilità dei film culturali… Questa triangolazione non esiste più… I cinema de sé… Sono scomparsi… E le sale… E i cineclub… E i cinefori… Non esistono più… Esiste… Ce ne erano migliaia in Italia… Sì… Ma io mi domando… Come mai… Le due… Forze culturali antagoniste… Quella di sinistra comunista… E quella… Cattolico… Cristiana… Poi dopo… Ma quando è finito tutto questo? Quando è finito la storia dei cinema? È finita con la prima repubblica… Con il crollo della prima repubblica… Crollata la prima repubblica… È arrivato Berlusconi… Ed è finito tutto… È cambiato tutto… È cambiata la storia d'Italia… No… Volevo aggiungere che… La più importante catena di cinema de sé in Italia… 900 sale… Erano tutte dell'Istituto Duce da noleggio… Che le ha chiuse nel 2000… Proprio smantellate… Via… Ora ci sono… A posto di queste sale… Ci sono… Del garage… O dei supermercati… Senti… E Costanza Dallibiano… Quindi… Quando… Costanza Dallibiano ce l'ha fatta… Fortunatamente… Prima che chiudessero… Queste famose sale de sé italiane… E questi cine club… A fare la sua circuitazione… All'interno… Di questo circuito alternativo… Tanto è vero… Che Costanza Dallibiano… Ha avuto il premio… Del pubblico… Delle sale… Dei cine club… Dei cine forum… Per il miglior film… Del 2000… Io ho una targa d'oro… Per il miglior film… Circolato… Nel… Nei cine forum… Nei cine club italiani… Nell'anno 2000… Poi… Questi cine forum… Cine club… Cine forum… Sono stati… Smantellati… Per cui… I miei film successivi… Non hanno più avuto… Questa possibilità… Luce Apolli… Poi… Dopo che il film è finito… Che rapporto ha avuto con te… E che riconoscimenti eventuali… Guarda lui… Lucia… Diciamo che il rapporto fra me e Lucia è finito… Con la fine del film… Non c'è stato un proseguo di rapporto… L'ho rivista… Qualche… Un paio d'anni fa… In un programma televisivo… Dove ha parlato… Dell'esperienza… Devo dire che ne ha parlato bene… Come una delle sue esperienze più importanti… Ora… Questo film… Costanza Dallibiano… Che sortea… Come vive… Che gli è accaduto… Come tutti i miei film… Sono chiusi dentro… I magazzini della Cineteca Nazionale… Ma neppure pubblicati nei nuovi sistemi di comunicazione… Di distribuzione… Io so che qualcuno ha filmato… Costanza Dallibiano… Che è stato proiettato… Come mi pare… Su… 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 Un canale televisivo… Strano… Qualcuno l'ha filmato… Ed è… Questo… Questo film… Si trova su YouTube… Devo dire… In qualità dell'immagine molto scadente… E si trova su YouTube… Per cui si può vedere su YouTube… Ma è un'immagine che… Non dà giustizia alla fotografia… E alla fotografia che tra l'altro ha vinto il primo premio per la fotografia… Ha vinto il… La Grolla d'Oro di Saint-Mensin… Per la miglior fotografia del 2000… Ma speriamo con l'erotodo di fare qualcosa… Sì… Va bene… Grazie Paolo… Benvenuti… Grazie… Grazie…